Grazie a tutti. Il sindaco Federico Talè è proprio come testimonial di solidarietà della sua comunità. Sindaco. Sì, io ringrazio innanzitutto Maria Elisa perché è stata lei l'organizzatrice in primis della serata, ringrazio i cittadini che sono intervenuti numerosi questa sera qui al Convento dei Cappuccini. Una splendida serata, una serata molto importante, forse la più importante del 2012 perché si tratta di una serata di solidarietà. Solidarietà per una famiglia del comune neanche di Mondavio ma del comune di Barchi. Come dire, la solidarietà non ha confini e infatti l'abbiamo organizzata proprio qui a Mondavio ma i cittadini che fanno parte di questa serata, che sono venuti e hanno partecipato dando la loro solidarietà, diciamo, a questa famiglia non sono soltanto del comune di Mondavio ma vengono anche da altri comuni, Orciano, Barchi, Mondavio. A dimostrazione che la solidarietà appunto non ha confini. Esatto, diciamo che appunto in questa serata hanno partecipato anche persone da Pesaro, da Fano, Orciano, quindi la stessa Barchi e gli stessi artisti che continuo a ripetere che sono stati veramente anche loro un fiore all'occhiello della serata perché hanno partecipato gratuitamente dando performance della loro musica. Quindi doppiamente direi una comunità sana che sostiene chi è in difficoltà purtroppo in questo periodo soprattutto per malattia perché ricordiamo che Alex, il figlio della famiglia di Barchi, ha dovuto sostenere e deve sostenere degli interventi anche diciamo costosi. Il fatto stesso che il sindaco è in qualche modo portavoce e anche fisicamente colui che in qualche modo porterà il denaro alla stessa famiglia. Sì, questo naturalmente fa molto piacere e sottolineo anche il fatto che la presenza di cittadini che sono vicini alla famiglia è importante, importante soprattutto in un momento come questo dove un po' la questione della crisi che tocca anche il nostro territorio tocca veramente tante famiglie sia di Mondavio che dei comuni vicini. Quindi vedere famiglie come vedo questa sera che loro stesse non navigano nell'oro che pur nonostante questa situazione diciamo globale in cui ci troviamo vengono e fanno la loro offerta per questa famiglia. Un grande gesto di solidarietà e naturalmente il merito va a voi e a voi gli organizzatori. Gruppi speciali, complimenti per la scelta dei gruppi e quindi una bellissima serata all'insegna della solidarietà. Grazie, grazie ancora al sindaco. Grazie, grazie a tutti. Grazie a tutti. Messa assolutamente sotto nostra sollecitudine e invito la presenza del vice sindaco purtroppo non si sono fatti vivi quindi in questo momento caro sindaco ti prendi la responsabilità di questo importo da destinare appunto nella trasparenza e a fin di bene appunto nei confronti di questa famiglia. Ecco qua. Grazie a tutti. Grazie a tutti.